Oggi voglio parlare di un argomento sociale importante, ovvero il tradimento, il tradirsi. Allora il monologato podcast avrà sempre come caposaldo la musica, non mi scordo che il motto era la musica senza la musica, e così sia. Ma ho deciso a livello editoriale come linea di aprirmi soprattutto a tematiche sociali, a tematiche di vita di tutti i giorni e alla possibilità di esprimersi al riguardo sempre di più, non solo attraverso la musica, ma partendo proprio dalla tematica in sé. Quindi adesso da categoria musica vorrei che il monologato podcast diventasse cultura e società, tenendo sempre la musica come caposaldo, però mi sembra un po' limitante dover parlare sempre e solo di musica e usare solo la musica per parlare delle tematiche sociali. Perché magari io tratto tematiche sociali interessanti in un podcast di una canzone che una persona non piace, quindi non ascolta il podcast in relazione a quella canzone e si perde magari un bel concept. E quindi di conseguenza io ho deciso che sì, farò recensioni, continuerò a fare anche letture, continuerò a parlare di musica, di ciò che accade attorno al mondo dello spettacolo, ma per quanto riguarda la società non ci soffermeremo solo alle news, ma anche e soprattutto alle tematiche e farò dei podcast relativi al riguardo. E questo è un esempio. Tradirsi? Ora, io non so voi come la vedete al riguardo, però io personalmente ho sempre avuto grandi problemi con questa tematica, perché ciò che mi ha sempre dato fastidio è proprio la mancanza di rispetto del tradimento. Perché in verità io mi rendo conto che a volte in determinate coppie c'è il bisogno di farsi lo scarro per capirsi il tradimento che cos'è. È o un tentativo di chiudere la relazione o è una richiesta d'attenzione. Nel momento in cui è un tentativo di distruggere ciò che hai costruito e non hai il coraggio di farlo in maniera legittima e quindi praticamente lo vai tradendo e facendoti sgamare, allora quella è una relazione che è già andata e che andava terminata e quindi scoprire il tradimento vuol dire basta. Ma nei casi in cui una persona tradisce perché vuole richiamare all'ordine il proprio compagno, la propria compagna, e a quel punto io direi che le dinamiche sono diverse. Si può perdonare. Io personalmente in passato non ci sono riuscito, ma ad oggi dovessi ritrovarmi in una relazione d'amore, dovessi trovarmi davanti una donna che mi guarda negli occhi e mi dice io amo te, ho tradito, me ne sono pentito, ma l'ho fatto mentre lo facevo ho capito di amare te. Ci vuole tempo, però lì secondo me si può perdonare. Ma poi c'è un altro fattore invece, che è quello che a me dà veramente fastidio, perché in verità se una ragazza mi tradisce e dopo il tradimento, dopo il perdono, le cose vanno meglio, da un punto di vista gestionale, io lo posso anche accettare. Cioè comunque siamo persone libere, io magari mi posso ritrovare a voler tradire una persona, magari lo fai, magari riesci anche a non farti scoprire, te lo vivi dentro e devi riuscire a perdonartelo. Ok, sono tante le cose che possono accadere, ma una cosa io non riesco ad accettare. Ovvero il fatto che nel momento in cui la mia donna mi tradisce, c'è uno stronzo che nel momento in cui mi guarda in faccia pensa che me l'ha messo al culo. Questo non lo riesco ad accettare. Ovviamente è una mentalità proprio da provincialotto che io ho, lo riconosco. Amici miei delle grandi città questo problema non ce l'hanno, perché magari viene tradito da qualcuno che chi ti conosce, chi ti vede, e invece nella piccola realtà, nel momento in cui una persona ti tradisce, lo sanno prima gli altri che tu in primis. Seconda cosa, c'è anche una questione di rispetto. Cioè se tu ci provi con la mia ragazza consapevole che sta con me, vuol dire che tu non hai né rispetto di me, né tantomeno paura. per le conseguenze che potrebbero insorgere. E questo per me, forse sono un ragazzino ancora sotto certi aspetti, ma per me è peggio ancora di un tradimento vero e proprio. Perché io la mia donna la posso perdonare, ci vuole tempo, ma lo posso fare. Ma una faccia di merda che, capito, che la passo da franca, proprio quello, non ci riesco a dormire la notte. Cioè è proprio una questione, è una questione di orgoglio dentro. Vero che a fatti concreti, esternamente, quindi fuori dal fatto, mi viene da dire, la colpa è del partner che ti tradisce. Cioè le ragioni sono nel vostro rapporto, gli altri non c'entrano niente. Quindi, a livello di maturità, uno deve essere in grado di andare dal proprio partner e risolversela con lui, con lei, senza stare a vedere le persone esterne. Perché le persone esterne sono solo un di più che si è inserito nel rapporto. Agenti contaminanti. Ma non sono loro la causa, la conseguenza o il problema. Forse conseguenza e problema sì. Però non sono di certo la causa. Infatti mi ricordo quando ero ragazzino che sgamai delle chat che non mi piacevano e spesso e volentieri andavo a brutto muso a molte persone. Ad oggi mi rendo conto che ero ridicolo. Ero innamorato, ero abbastanza orgoglioso, certo, però ero ridicolo. Perché tu dai più importanza a una determinata persona che invece non la merita perché appunto si è messa in mezzo. Nel momento in cui tu gli dai importanza, tu continui a farla stare in mezzo. Invece è importante che tu mantieni la tua individualità e ti ricordi la verità, ovvero che c'è qualcosa che non va nel tuo rapporto. Quindi la domanda interiore che pongo ogni volta nel monologato podcast si chiama così proprio perché è un monologo e quindi non ha possibilità di interlocuire. Però, ecco, le domande che pongo sono interiori e servono a una riflessione interna. Orgoglio o amore? Si perdona riuscendo a tirar fuori chi non c'entra niente? Oppure bisogna andare dalla persona di turno e spaccargli la faccia, esempio? O fargliela pagare? A che serve la rivalza? A che serve la vendetta? Ecco, il discorso è che siamo umani. In teoria tutto bene, ma in pratica un po' meno. Io ho quello che posso suggerire e fate quello che prete dice, ma non fate quello che prete fa perché io non lo so se adesso mi innamorassi davvero come potrei reagire, anche se la maggior parte delle ragazze io le ho perse per orgoglio. E non è bello quando comunque sei lì che ti rendi conto che hai perso una persona speciale perché non sei stato in grado di mettere da parte te stesso e magari inizialmente puoi sentirti forte delle tue convinzioni ma poi la solitudine fa il suo e ti rendi conto che forse era meglio cercare di andare in conto alle esigenze dell'altra persona e non sto parlando solo di tradimento. Quindi, cosa è meglio? Questa è la domanda che vi pongo e che mi pongo. una cosa è certa l'importante è l'amore. È una banalità, è vero, però se una persona ci continua ad amare e noi continuiamo ad amare questa persona ma anche col tempo è inutile stare a fissarsi per delle azioni umane, carnali, per degli errori perché l'amore è qualcosa di più forte e se un tradimento scalfisce una relazione forse non è amore e soprattutto l'atto sessuale non vale un cazzo in confronto a tutto quello che c'è dietro il vero tradimento, secondo me non è una persona che scopa un'altra persona ma bensì magari una persona che tradisce i tuoi valori tradisce le promesse che vi siete fatti a volte mi spaventa più una ragazza che ride con tutti che una che la dà a tutti perché spesso le ragazze che si concedono facilmente quando poi si fidanzano sono delle signore ma veramente quindi insomma è tutto da vedere tutto da da capire su come siamo noi stessi e sul nostro concetto di sentimento e anche è vero che col tempo i sentimenti il modo in cui vengono percepiti è tutto cambiato ma questa è un'altra storia e avremmo sicuramente modo di affrontarla